Adesso diamo la parola a Sara Palazzoni, appunto parliamo della tutela degli infortuni sui cantieri e ovviamente nelle fabbriche, negli stabilimenti e il ruolo fondamentale del padronato soprattutto poi per il riconoscimento delle malattie professionali. Sara, prego. Grazie, buongiorno, bentrovati. Non lo faccio formalmente ma ringrazio davvero la Fillea e Giulia perché oggi al tavolo ci sono tutte le figure, quando parliamo di l'ASTAG insieme più forti, qui al tavolo abbiamo le figure che rappresentano quello che è il lavoro di squadra per poter mettere in campo tutto quello che è ovviamente la prevenzione che porta avanti la categoria, insieme però anche alla tutela, quindi tenere insieme quella che è la tutela collettiva con la tutela individuale. Quindi con noi, con l'Inca, insieme alla categoria, insieme agli avvocati che ringrazio che sono entrati già in molti punti che quindi io non ripeterà, facciamo un lavoro straordinariamente importante che parte sicuramente però dal ruolo vostro, dal ruolo degli RLS e degli RLST che sono la nostra sentinella anche dal punto di vista delle tutele individuali. È importante, pertanto lo dicevano, anche tutto il discorso della formazione perché noi dobbiamo lavorare affinché possiamo essere consapevoli e conoscere quelli che sono i rischi della nostra attività lavorativa, i rischi che noi a cui possiamo andare incontro nell'esercitare la nostra attività lavorativa. Con Giulia, lo dicevamo, magari un'altra volta faremo anche un'altra parte con i medici perché i nostri medici convenzionati con l'Inca, con la CGL, sono quelli che dal punto di vista medico, anche l'importantissima relazione che ha fatto Giulia, ha casciorinato tutte e purtroppo quelle malattie, tutti quegli agenti che vanno a incidere sulla salute, con il medico possiamo, ci descrive la specifica, il dettaglio anche di come riconoscerle, di come attenzionarle, quindi anche come prevenirle, quindi poi purtroppo mettere, purtroppo però l'infortunio e anche la malattia professionale ci sono e quindi noi dobbiamo essere in grado di mettere in campo la giusta e corretta tutela a quelle lavoratrici e lavoratori che in tutti i vostri settori, in tutti i settori ovviamente del lavoro, si ammalano lavorando o si infortuniano a causa del lavoro. Quindi penso che questo sia un nostro proprio dovere morale di dare anche a tutti voi, ma e quindi alle lavoratrici e ai lavoratori, tutte quelle informazioni necessarie a mettere a riparo, diciamo, la propria salute. Giulia ha elencato i dati quindi della categoria, io voglio solo dire che proprio a livello nazionale di tutto il mondo del lavoro i dati dei primi mesi dell'INAI sono drammatici, se lo possiamo così dire. Perché aumentano gli infortuni, anche purtroppo gli infortuni mortali siamo arrivati al numero di 191 e le malattie professionali, compagni e compagni, aumentano più del 24%. Questo, e noi come Inca lo stiamo vedendo purtroppo, sarà una, sarà se non interveniamo veramente anche dal punto di vista come dicevano gli avvocati, anche delle leggi, delle normative, saranno destinati ad aumentare perché i cambiamenti che ci sono stati nel mondo del lavoro, i ritmi del lavoro sempre più spinti, l'obiettivo del massimo guadagno, quindi arriveremo che ci saranno carichi di lavoro sempre maggiori e il rischio di esposizione alle malattie professionali aumenteranno come il rischio di incrementare gli infortuni ed è per questo quello che dicevo all'inizio, prevenzione e tutela dobbiamo lavorare congiuntamente. Questi dati drammatici, lo voglio risottolineare anche se l'ha detto Giulia, sono drammatici ma sono assolutamente sottostimati perché il lavoro nero, il lavoro grigio, la vostra categoria, il lavoro sfruttato penso che sia, insieme io vengo dalla FLAI, le categorie che purtroppo lo vivono quotidianamente ma anche la forte precarietà del lavoro e la parcellizzazione del lavoro porta purtroppo, troppo spesso, le lavoratrici e i lavoratori a non denunciare l'infortunio o non far emergere la propria malattia professionale perché per paura di perdere il posto di lavoro. Questo è un dato drammatico che noi registriamo costantemente quindi noi dobbiamo, la CGL tutta, i soggetti che sono qui, la Confederazione, proprio ribadire che il diritto al lavoro non può essere messo in contrapposizione con il diritto alla salute. Mentre oggi, compagni e compagni, ne assistiamo, ne vediamo, hanno paura di denunciare perché hanno paura di non essere richiamati al lavoro e la frammentazione, la forte precarietà, questo ovviamente aumenta fortemente. I cambiamenti del lavoro, l'ha accennato anche Giulia, stanno avendo delle influenze negative sulla salute e sicurezza dei lavoratori anche dal punto di vista dei rischi psicosociali perché i cambiamenti, come dicevo, dell'organizzazione, del lavoro, l'obiettivo del massimo guadagno, i ritmi sempre più spinti, stanno condannando molte lavoratrici e lavoratori a forti disagi psicosociali in tutti i settori perché c'è proprio il numero delle lavoratrici e lavoratori ridotto ma si deve ottenere lo stesso tipo di obiettivo lavorativo e quindi automaticamente crescono gli infortuni e le malattie professionali. Il ruolo dell'Inca è sicuramente quello di andare a qualificare correttamente ogni evento che va ad agire sulla salute dei lavoratori e quindi questo lavorare in squadra è straordinariamente importante perché vuole dire dare un supporto, un'assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori che si ammalano, subiscono un infortunio durante la loro attività lavorativa. Quindi è importante innanzitutto quando un lavoratore subisce un infortunio quindi che comporta, non parlo adesso dei casi che citava l'Avvocato Valori perché ne ha parlato in maniera molto specifica e importante, ma che porta ad una l'infortunio, quindi che porta ad una inabilità parziale, è un infortunio, quindi parliamo di una lesione, una causa violente e un'occasione di lavoro. Noi dobbiamo imparare, lo dico così perché purtroppo come Inca il patronato della Cigelle è il patronato, lo dobbiamo dire, che aiuta e tutela molte lavoratrici e lavoratori, ma possiamo ancora fare molto di più perché ancora c'è poco rapporto fra categoria Inca e gli RLS, RLST, mentre questo circolo, voglio dire un circolo vizioso, deve funzionare in maniera importante per dare, dicevo, al lavoratore che la giusta tutela. Quindi ogni qualvolta succede un infortunio, dobbiamo dire al lavoratore, alla lavoratrice che nel momento, dopo che si è recato al pronto soccorso, deve venire all'Inca. Perché dico questo? Perché il patrocinio dell'infortunio vuol dire dare una maggiore tutela alle lavoratrici e ai lavoratori. Perché? Vi faccio un esempio chiaro. Noi sappiamo che, a differenza di una malattia professionale, che poi ci vado velocemente, la domanda di infortunio parte in automatico, anche se non si viene ai nostri sportelli. Ma noi abbiamo visto dai dati dell'Inail che gli infortuni non patrocinati, cioè non passati, la dico semplice, tramite l'Inca, vengono liquidati dall'Inail per l'85% senza possumi. Cioè viene riconosciuto l'infortunio, ma a zero possumi, che non c'è, senza almeno un punto di danno permanente. I nostri dati, ma purtroppo dobbiamo dire che come CGL patrociniamo molto poco di infortuni, e quindi ecco perché dobbiamo farci squadra, perché vuol dire non dare la giusta tutela ai compagni di lavoro, i nostri dati, per i nostri dati, la percentuale è completamente ribaltata. Cioè quando viene riconosciuto un infortunio dall'Inail patrocinato, almeno un punto di danno permanente c'è sempre. Questo vuol dire che l'Inail, quando liquida un infortunio non patrocinato dal patronato, quindi lo liquida, lo diciamo, con molta leggerezza. Perché l'Avvocato diceva che nei tribunali si respira un'aria poco inclina a noi, ma l'Inail è allo stesso modo. Ecco per questo lavoriamo congiuntamente, lo dico anche purtroppo, ma con l'importanza dei nostri legali convenzionati, perché molto spesso per ottenere il giusto riconoscimento dobbiamo adire alle vie legali. Ma questo non è che ci spaventa, ma anzi ci dobbiamo quindi lavorare sempre più in squadra, RLS, quindi categoria patronato, insieme ai medici, perché sono i medici che inquadrano il corretto infortunio e la corretta malattia, la malattia professionale. Quindi è importante, anche perché noi riusciamo, perché molte volte il lavoratore vediamo che viene da noi solo nella fase di una respinta dall'Inail. E diventa più faticoso, poi invece noi dobbiamo fare l'azione preventiva, perché i nostri medici legali convenzionati con la CGL e con l'Inca sono in grado di mettere in fila tutta quella che è la condizione giusta, ovviamente di un medico, per il riconoscimento dell'infortunio. Quindi noi dobbiamo, dal punto di vista dell'infortunio, trasferire nostre lavoratrici e lavoratori nei posti di lavoro, perché troppo spesso non siamo consapevoli del percorso che dobbiamo attivare, o addirittura purtroppo non l'attiviamo affatto. O, alle volte, lo confondiamo, lo tuteliamo come una semplice malattia IMS. Ma un infortunio, quando è tale, deve avere la copertura dell'Inail, perché sapete tutte le garanzie previdenziali che ci sono. Se invece, dall'altro canto, vediamo che il tipo di lavoro sta arrecando un danno alla persona, alle lavoratrici che svolgono quel tipo di attività, dobbiamo segnalarlo e venire all'Inca, perché i nostri medici, insieme al lavoratore che sta subendo dei sintomi, verificherà quali sono le sue condizioni, se la sua condizione è di origine lavorativa, e quindi avviare il percorso per il riconoscimento della malattia professionale, che è contratta nell'esercizio della propria attività lavorativa, e che nasce, diciamo così, a causa del lavoro svolto. Ovviamente, la dico così come mi capita spesso di dirlo, il fenomeno delle malattie professionali, io dico sempre, ha una natura più subdola rispetto all'infortunio, perché mentre l'infortunio è un evento immediato e evidente, che avviene nel lavoro, la malattia professionale si evidenzia nel lungo periodo, dopo che ho svolto tanti anni che ho magari svolto, ho fatto movimenti repetitivi, magari perché sono stato esposto alle polveri del legno, o alle vernici che mi possono portare, e quindi noi, lo diceva anche Valoni, dobbiamo, ma questi sono i nostri medici prima, e poi eventualmente gli avvocati, andare a individuare il nesso causale, quindi l'origine lavorativa di quel tipo di patologia. Quindi, nella grande maggioranza dei casi, anche uno stesso lavoratore, e purtroppo, diciamo, come categoria, in questo caso, guardo all'edilizia, al pezzo dell'edilizia, siete molto esposti ad avere anche più malattie professionali riconosciute per il tipo di attività che fate in tutto l'arco lavorativo. Quindi, e in generale però, su questo bisogna stare molto anche attenti su quelli che sono i rischi ambientali, i rischi che sono indicati nel DVR, lo diceva prima Ronchi, perché comunque, molte volte, l'INAI lo fa sbagliando, ma lo fa e quindi noi dobbiamo intervenire con i legali, utilizzano il DVR per riconoscere o meno quella malattia professionale, ma i rischi nel DVR non vengono elencati. E quindi ecco l'attenzione importante di voi, di tutti i rappresentanti, perché quello che viene elencato nel DVR, poi può essere usato da parte dell'INES, contro il riconoscimento della messa in atto di una vostra tutela. Poi noi con le perizie del legale e dei medici costruiamo, anche perché l'INAI non può utilizzare il DVR come unico elemento per il riconoscimento di una malattia professionale. I principali, l'ha detto Giulia, sicuramente tutte le malattie muscoloscheletriche, ma in tutti i vostri settori è importante anche attenzionare tutte quelle che è l'esposizione, come dicevo prima, alla formaldeide, alle polveri del legno, alle polveri in generale, all'esposizione alle vernici, ai colpi di calore che possono portare ai tumori della pelle, possono portare il carcinoma polmonare, il mesotelioma nell'amianto. Purtroppo avete visto, o avrete sicuramente letto, che ancora abbiamo più di 40 milioni di tonnellate da amianto da smaltire, nonostante, in Italia, nonostante ormai sia al bando dal 1992. Quindi, noi dobbiamo, e noi come Inca ci stiamo lavorando, insieme alla CGL, con i nostri medici, proprio anche per l'emersione dei tumori professionali, perché purtroppo succede che non lo attenzioniamo, ci si ammala, o purtroppo si muore di un tumore, senza ersi interrogati, che quel tumore possa aver avuto un'origine professionale, e quindi non aver avuto il giusto riconoscimento, perché non l'abbiamo attenzionato e non abbiamo fatto la giusta richiesta. A fronte di un danno, riconosciuto dall'INAI, quindi, e vado a chiudere, su infortuni e malattie professionali, ovviamente c'è anche un riconoscimento economico, che è, o dal 6 al 15% di danno, è una somma in capitale, che viene data in base all'età, e alle tabelle che vengono aggiornate, di anno in anno, e dal 16% in poi, c'è una rendita vitalizia. È importante poi venire all'Inca, e quindi per portare avanti la corretta tutela, perché sia l'infortunio, che la malattia professionale, possiamo, come si dice, avere un aggravamento dei possumi, dopo 10 anni e 15 anni per le malattie professionali, perché continuando a svolgere l'attività lavorativa, quel tipo di infortunio, che ho denunciato 10 anni fa, può essere aggravato, mi ha portato ad avere qualche altro danno. Quindi è importante lavorare per informare, formare, per denunciare gli infortuni, e anche per l'emersione delle malattie professionali. Noi utilizziamo, e lo abbiamo fatto anche in qualche settore, qualche anno fa, anche con l'utilizzo dei questionari, che noi somministriamo a tutte le lavoratrici e lavoratori, per cercare di costruire ovviamente questionari che ricostruiscono la vita lavorativa, ma anche c'è una valutazione medica, perché poi quei questionari vengono visti dai medici di riferimento nel singolo territorio, e chiamano il lavoratore per essere tutelato, per verificare col lavoratore stesso, se ci sono le condizioni per portare avanti la malattia professionale, e quindi andare a mettere in campo la giusta tutela. Perché, ripeto, i questionari mettono in evidenza anche che molte volte i lavoratori hanno i sintomi di una patologia, ma non sono consapevoli che quella può essere una patologia derivante dal lavoro, oppure non hanno sintomi, ma facendo quel lavoro che li espone una certa sostanza, certe sostanze possono avere il rischio, che sono esposti a lavorazione di rischio. Quindi veramente per concludere, io penso che oggi è stata una giornata veramente importante, perché ci siamo i soggetti che debbono mettere in campo tutta la loro capacità, la loro attività, per dare le risposte ai lavoratori e lavoratrici che si ammalano di lavoro. Noi cerchiamo, dal lato, di fare le malattie muscoloscheletriche, ormai diciamo che ci siamo abbastanza avvezzi, un po' tutti, ma tutte quelle, a partire dai tumori professionali, che come vi ho detto prima, purtroppo non vengono attenzionati, che possono avere una origine lavorativa, e stiamo anche lavorando sull'emersione dello stress da lavoro correlato, che purtroppo sta, la dico così, mettendo vittime in tutti i settori, anche quelli che uno magari ci pensa meno. E anche quello va a incidere, ad aumentare sicuramente gli infortuni, perché cala l'attenzione e quindi è importante. Sicuramente lo stress da lavoro correlato, che oggi purtroppo in tutto territorio nazionale colpisce tante lavoratrici e lavoratori, ma oggi l'Inca, con i suoi medici e i suoi legali, ottiene il riconoscimento per quella lavoratrice solo se agisce dal punto di vista legale, perché l'INAI ancora non la riconosce. È per questo che lavoriamo con l'Università Cattolica per cercare di costruire un campione importante da presentare a lina e per cercare, cioè il discorso, io lo sto dicendo così un po', come facemmo negli anni passati con l'amianto. Questa è un'altra patologia che dovremo insieme, perché ci vuole il lavoro di tutti, costruire. Quindi cerchiamo di far conoscere i rischi del proprio lavoro, agiamo per raggiungere un benessere organizzativo che vada a incidere positivamente sugli infortuni e sulle malattie professionali, perché solo così potremmo lavorare per un lavoro dignitoso. Grazie. Grazie.